Caro Luca Novelli, ammetto che questi lampi di genio un po' te li invidio. Non i libri in sé, è perché quelli sono felice li abbia scritti tu così io li posso leggere. Ti invidio il titolo soprattutto. Sì sì, quello mi piace un sacco, avrei voluto usarlo io. Vabbè, è tuo. La prima domanda è quasi ovvia. Qual è stato il tuo primo lampo di genio? Caro Andrea, grazie. Un po' di invidia buona fa sempre bene. Per ricompensarti ti nomino ufficialmente come primo ambasciatore dei lampi di genio nel mondo. Quanto al mio primo lampo di genio forse l'ho avuto a otto anni, quando ho inventato la Nutella. E la Nutella non c'era ancora. L'idea era buona ma ho solo fatto un disastro col frullatore di mamma. I lampi di genio sono un po' come l'uovo di Colombo, non basta saper fare l'uovo, bisogna anche saperlo covare. La seconda domanda è dove trovi le informazioni? Insomma, dove trovi tutto quello che poi noi troviamo nei tuoi libri? Per fare un lampo su un personaggio cerco tutto quello che gli riguarda, pettegolezzi compresi. All'inizio cerco disegni, articoli, romanzi, biografie, libri di storia. Filtro tutto e metto da parte aneddoti e curiosità. Con il restante scrivo un bozzone dove il personaggio prende forma col suo carattere e la sua storia. Anzi, comincia a parlarmi, anche di notte. Poi aggiungo un po' di pepe, ovvero gli aneddoti e le cose curiose che avevo messo da parte. Alla fine metto tutto nel forno e il lampo è pronto. Ora immagina due dei tuoi personaggi, Darwin e Einstein. Immaginali insieme al bar. Immagina un dialogo così, te la butto lì. Un lampo di genio al bar per due super geni. Cosa si diranno? Nell'ultimo lampo, quello su Dante e le infernali scienze, ho immaginato Dante che quando può va al bar del limbo, nell'anti-inferno, all'ora dell'aperitivo, dove si fa delle belle chiacchierate proprio con Darwin e Einstein. Qui posso aggiungere che parlano di spazio e tempo, di Guelfi e Ghibellini, di ieri e di oggi, ma anche di sport. Ma non chiedermi su cosa litigano. Io di calcio non ne capisco niente. Come tutti noi autori, anche tu vai spesso nelle scuole, incontri molti ragazzi. Cosa trovi che ti viene restituito dai lampi di genio? Perché anche loro hanno negli occhi, nella luce degli occhi dei piccoli lampi e spesso sono geniali. Condivido. Incontrare lettori grandi e piccoli fa felice tutti gli autori, me compreso. I ragazzi mi suggeriscono spesso idee che finiscono nei libri. Talvolta mi hanno persino suggerito qualche titolo. Senza questi incontri non credo che sarei mai arrivato a quota 22 lampi di genio e non avrei fatto tante cose che ho fatto. Grazie ragazzi e grazie Andrea per la domanda. I tuoi lampi di genio guardano ovviamente al passato, però ogni cosa che noi leggiamo ha lo sguardo rivolto al futuro. Per cui, qual è il tuo lampo verso il futuro? Cosa vedi di là, illuminando in un attimo a quello che ci accadrà? Un futuro vicino, non troppo lontano. In realtà alcuni personaggi parlano già di futuro. Leonardo dà consigli su come usare l'energia del sole e dell'acqua. Darwin si stupisce dei problemi ambientali e suggerisce come risolverli. Oggi farebbe installare sul Big Bang l'orologio che indica quanto tempo manca al punto di non ritorno, ovvero quando non potremo più far nulla per evitare cambiamenti climatici irreversibili. Certo, sarebbe interessante fare un lampo di genio su un grande personaggio dell'anno 2100, che racconta come sono stati risolti tutti i problemi di oggi. Non è male l'idea, ma sarebbe un super lampo di fantascienza. Chi vedrà, vedrà. Molti ragazzi, ma anche io, che mi li leggo da adulti, impariamo delle cose interessanti dai tuoi lampi di genio. Tu cosa hai imparato dai tuoi lampi di genio? Come sono stati dei piccoli docenti per te i tuoi libri? Cosa ho imparato dai lampi? Tutto quello che sono oggi. Ho imparato ad essere un po' Leonardo, un po' Darwin, un po' Archimede e anche un po' Marie Curie, ma è quello che voglio che accada ai lettori e alle lettrici dei lampi. È il vero fine dei lampi di genio, far diventare tutti un po' geni in un lampo. Il tuo più recente lampo di genio è Dante, anche perché ci sono i 700 anni, insomma bisogna festeggiarlo nel modo corretto. Ora ti lancio una piccola sfida, immaginati nei panni di Dante e prendi tutti i tuoi personaggi e mettili, anziché nella tua collana, nei gironi dell'inferno. Qualcuno lo puoi mettere anche in paradiso se vuoi o al purgatorio, però l'inferno mi sembra più intrigante e più adatto anche. Quindi collocami da questa gentaglia nell'inferno dantesco novelliano. In realtà Dante, per alcuni dei personaggi dei lampi di genio, ci aveva già pensato, aveva messo nel limbo tutti i grandi saggi non battezzati del passato. Quindi Aristotele, Pitagora e Archimede e compagnia bella sono certamente al bar del limbo a parlare di sport, politica e filosofia per tutta l'eternità. Darwin starebbe benissimo nel paradiso terrestre, tra belve tranquille e amiche dell'uomo. Galileo lo vedo bene tra i cieli del paradiso, costretto ad aiutare gli angeli a muovere le stelle, seguendo una logica che non è la sua. Per lui sarebbe peggio dell'inferno. Magellano invece lo vedo bene come nostromo di Caronte. Edison e Nikola Tesla li vedo assunti come inventore di nuove pene infernali a base di scosse e sedi elettriche. Mendel sarebbe incaricato di progettare creature geneticamente modificate, più mostruose del cerbero. Vedo Isaac Newton in un girone ben preciso, quello dei falsari e degli alchimisti, anche perché aveva cercato di trasformare il piombo in oro. Insomma, nel mondo di Dante c'è un posto prenotato per tutti, anche per me e per te. L'ultima domanda è una domanda alla rovescia. Tu hai scelto uno dopo l'altro in vent'anni tanti scienziati, tanti personaggi che hai raccontato con il tuo modo divertente e divertito. Chi tra loro vorresti che scrivesse Il Lampo di Genio su Luca Novelli? E cosa vorresti leggere? Beh, grazie, ma per un lampo intero su di me c'è tempo. Però Darwin potrebbe dedicarmi mezza paginetta dei suoi tacquini come caso esemplare di evoluzione darwiniana, insieme alle iguane e alle tartarughe delle Galapagos. Einstein potrebbe mettermi tra i suoi appunti sullo spazio e sul tempo come esempio di come si perde e si guadagna spazio e tempo. Infine, i fratelli Lumière potrebbero farmi un video da mettere su YouTube. Il copione potresti anche scriverlo tu, ma aspetta ancora un po'. Ciao Luca. Ciao Andrea. Grazie Editoriale Scienza e tanti lampi di genio a tutti. Grazie a tutti.